Ciao, sono Anarita, sono la responsabile di una società che si occupa di turismo in bicicletta. Perché lo facciamo? Perché no? Perché non coinvolgere i turisti che vengono dall'estero nella conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura, tutto ciò che ruota intorno alle nostre radici. Quindi è una scoperta del territorio veramente autentico, riscoprendo le antiche vie secondarie utilizzate dai nostri nonni, dai nostri contadini, ciclabili molto sicure, fuori dai circuiti davvero tradizionali del turismo di massa. Il nostro grande obiettivo è proprio invitare anche le famiglie con i bambini a scoprire questa terra. La bici come stile di vita, stile di vita didattico, stile di vita salutare. Noi siamo ciclovagando, noi siamo terra dei messapi.